...nata sarda, firmato Manfredo Fanti, ministro della guerra. Tale semplice nota sottolineava la genesi di un nuovo esercito, che innestandosi sulla solida struttura delle tradizioni militari delle truppe piemontesi, protagoniste con i giovani... Presento... Onori alla bandiera di guerra dell'esercito! Il rapporto tra l'esercito e gli italiani si è fatto più forte e più consapevole. I nostri concittadini sanno di poter contare su una pagina capace e determinata, in grado di adattarsi rapidamente alle minacce da affrontare. Capacità professionale e fedeltà istituzionale sono due tratti distintivi dell'esercito. Brigata presenta... Arvo! Grazie. Grazie. Grazie.